Musica Te spettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediogena. Dare il benvenuto al tanto atteso campionato europeo di vela stamane a Crotone e sversamento di Fogna in mare. Non ci vuole una grande immaginazione per capire che questa che vedete è Fogna. Sì, non ci vuole una grande immaginazione perché voi non sentite la puzza ma noi che siamo qui la sentiamo come la sentono questi cittadini che stamattina erano venuti qui nella zona della Passarella per farsi il bagno. Il mare è nero, è nero e allora questa è Fogna. È Fogna, è una vergogna perché in piena stagione vedere una cosa così è una cosa abobinevole. Io spero che il neosindaco, il signor Pugliese, venga a vedere perché è assurdo vedere una cosa così. Ci sono perfino i pesci morti vicino alla riva. È vergognoso, guarda, vergognoso proprio. Anche perché ci sono gli europei di vela qua, vedono una cosa di questa. Lei era venuto per farsi il bagno? Eh, io ero venuto per farmi il bagno ma come puoi vedere la macchina dove è arrivata. Tutta quella zona nera? Sì, sì, si vede, la macchina nera fino a là, guardi. Cioè qui questa non è acqua trasparente. No, 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 è proprio Fogna che esce da qui sotto. Esce da qui sotto, ma si vede, si vede qua lì. Si vede, si vede, quindi il problema dello scorso anno si ripresenta. Si ripresenta, si ripresenta. Qua, non lo so che cosa succede, ogni anno, l'estate, succede questa... Quando arrivano i turisti, li accogliamo così. Questo fatto in Cresciosa, sì. Qua c'è uno dei turisti che vengono da Verona, quindi ha visto questa... Lei viene da Verona. Io vengo da Verona, è una roba del genere, non l'ho mai vista in vita mia. Cioè proprio questo qua è Fogna al 100%, che si scarica nel mare dove i bambini e gente... Poi qua vogliamo il turismo. E beh, l'ha detto tutto questo signore che viene da Verona. Il turismo qua, se si continua con queste Fogna, non arriverà. Sparne su il cittadino. Hanno votato il nuovo. Hanno votato il nuovo. Hanno votato il nuovo. Scusa, ma secondo lei il nuovo può avere colpa di... Restiamo in argomento, dando spazio a un comunicato diffuso dalla Metap Amici Beppe Grillo Crotone, in cui si legge da quando suo acro è fallito e quindi gli impianti di depurazione non sono più operativi, da cittadini ci domandiamo dove va a finire la nostra pupù? Nel dubbio che la rete fognaria possa scaricare a mare il Metap Amici Beppe Grillo di Crotone ha commissionato al laboratorio Biosilab una serie di campionamenti e analisi da effettuare in alcuni punti dove solitamente noi crotonesi facciamo il bagno a mare. I risultati ottenuti non ci lasciano tranquilli ed è per questo che chiediamo all'amministrazione comunale di rassicurarci sullo stato di salute del nostro mare attivandosi affinché in questo periodo estivo vengano intensificati con cadenza settimanale dei campionamenti e analisi dello stato di salute del nostro mare cittadino e che i dati siano comunicati tempestivamente a tutela della salute pubblica a tutti noi cittadini. Infatti riteniamo che le cadenze mensili delle analisi effettuate da Alpacal in questo periodo siano insufficienti. In attesa di risposte da cittadini abbiamo commissionato ulteriori campionamenti. E un altro biglietto da visita della nostra città, stamane spazzatura sparsa in centro. Arriva l'estate e la città si caratterizza per le fogne a mare e per la spazzatura in mezzo alla strada. Siamo a 200 metri dal mare, guardate qui, una vera e propria discarica è una discarica e più avanti è la stessa cosa. Qualche centinaio di metri più avanti abbiamo la stessa situazione. Siamo in via Poggio Reale che è la strada principale che da Piazza Pitagora porta sulla spiaggia, sul lungomare cittadino. Una strada obbligata per chi fa turismo, perché chi fa turismo va nel centro storico a vedere i monumenti e poi si fa la passeggiata sul lungomare. Il primo impatto che ha partendo da Piazza Pitagora è quello di vedere fuori dai cassanetti tutta questa immondizia, più avanti ancora c'è la stessa situazione, poi arriva sul mare e ad accogliere il turista che viene a Crotone c'è la fogna. È una situazione che purtroppo è classica in questo periodo e che non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così. È ovvio che sono problemi vecchi che ancora non si risolvono, ma sono problemi che meritano maggiore attenzione perché una città bellissima come Crotone, vocata naturalmente al turismo, non può dare questo spettacolo. Eccoli, più avanti è la stessa situazione. E come avevamo previsto la soprintendenza archeologica ha detto no ai lavori per l'ampliamento dello stadio Ezio Scida di Crotone per renderlo agibile per la Serie A. Diciamo che la soprintendenza non intendeva dare il via libera ai lavori del campo. La nostra è stata una voce nel deserto, inascoltata. Adesso c'è un atto ufficiale. Sono mesi che diciamo che alla fine il Crotone rischia di non giocare il campionato di Serie A nel suo campo perché la soprintendenza ai beni archeologici non si sarebbe presa la responsabilità di far mettere cemento laddove ci sono resti archeologici, alla luce anche di quello che era successo a Capocolonna. Vi leggiamo un'agenzia ANSA di oggi. La soprintendenza archeologica ha detto no ai lavori per l'ampliamento dello stadio Ezio Scida di Crotone per renderlo agibile per la Serie A. La pratica si è arenata sui tavoli della nuova soprintendenza omnicomprensiva dai beni archeologici al paesaggio, alle belle arti di Cosenza. Il neo soprintendente Mario Pagano è stato nominato tre o quattro giorni fa, la settimana fa insomma è stato nominato Mario Pagano soprintendente a Cosenza, proveniente dagli uffici Umbri del Ministero dei Beni Culturali, ha formulato parere negativo all'ampliamento della curva sud e alla realizzazione della nuova tribuna coperta, in considerazione, secondo quanto si è appreso, del vincolo archeologico posto sull'area dello stadio sotto la quale si trovano resti dell'antica Crotone. Il mancato nulla osta ha spinto il sindaco Ugo Pugliese ad avvertire la prefettura e a partire immediatamente per Cosenza, dove è in corso una riunione urgente con la soprintendenza alla quale partecipano anche gli assessori ai lavori pubblici Tommaso Sinopoli e allo sport Giuseppe Fisenda, tecnici comunali e rappresentanti della città di calcio. Non lasceremo nulla di intentato, come l'amministrazione ha detto il sindaco abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare i tempi già pregiudicati in precedenza per predisporre le gare per la giudicazione dei lavori dell'adeguamento. Questa decisione improvvisa e inaspettata rischia di venificare non solo i nostri sforzi ma anche di deludere le attese della gente di Crotone che vuole che la Serie A si giochi a Lezio Scida. Noi faremo di tutto e di più affinché il Crotone giochi a Crotone. Non c'è dubbio che siamo convinti che Pugliese farà di tutto però questa dello stadio è una brutta tegola che si abbatte sull'amministrazione di Pugliese. Tra l'altro non ha responsabilità e da pochi giorni perché Pugliese aveva garantito forse l'amministrazione dovrebbe stare un po' più attenta a non fare fuga in avanti quando le cose non si possono mantenere. Aveva garantito che lo stadio sarebbe fatto, avrebbe garantito la pulizia della città avrebbe garantito che non ci sarebbero state fogne. Bene, lo stadio rischia di non farsi. Le fogne a mare ci sono, la città è sporca, è piena di immondizi. Allora, forse sarebbe il caso che incominciassero ad essere un pochino più prudenti perché è giusto avere fiducia nei confronti di questa amministrazione tra l'altro se la merito, l'hanno votato i cittadini però l'amministrazione un po' di prudenza non guasterebbe perché purtroppo la nostra realtà è complessa e bacchette magiche non ce ne ha nessuno. Ed ora politica locale, ieri assemblea cittadina del Partito Democratico di Crotone il commissario Maurizio Tricoli consegna il mandato nelle mani del segretario regionale Ernesto Magorno. Maurizio Tricoli ha rassegnato le dimissioni da commissario cittadino del Partito Democratico ovvero ha detto di aver dato la disponibilità alle dimissioni al segretario regionale Ernesto Magorno che l'aveva nominato commissario quindi ha dato nelle mani del segretario regionale la disponibilità a fare un passo indietro. Lo ha comunicato ieri Tricoli all'assemblea cittadina convocata per l'analisi del voto un'assemblea molto molto calda perché a differenza dell'assemblea provinciale quella comunale che si è tenuta ieri ha avuto momenti di grande tensione e gli scontri interpersonali hanno rasentato quasi la violenza fisica oltre scontri verbali tra i diversi componenti sono volate accuse reciproche e alla fine si sono aggiornati alla prossima settimana perché vogliono capire che intende fare Magorno su Crotone perché lui dà la disponibilità di mettersi ma se Magorno dovesse decidere di mantenerlo in carica allora resterà in carica ma in carica di che cosa? Perché francamente non ho capito da che cosa si è dimesso Maurizio Tricoli perché prima delle elezioni il partito crotoneese, il commissario era stato commisariato la segreteria regionale, gli organismi regionali del partito democratico avevano nominato un responsabile della direzione regionale Giovanni Puccio, l'uomo di Bottricello l'avevano nominato responsabile dell'elezione di Crotone e quindi è Puccio che avrebbe dovuto dimettersi perché è Puccio che perde Tricoli non ha svolto ruoli ruoli perché non aveva ruoli lui non poteva incidere su queste elezioni anzi, mi meraviglio come mai non si sia dimesso prima visto che era stato anche lui commisariato ha accettato di stare lì a fare che cosa e comunque in questa partita a livello di Crotone si è aperta la discussione si è dimesso il segretario, quello sì che si è dimesso il segretario provinciale, Arturo Cugliano Pantisano Maurizio Tricoli dà la disponibilità di dimettersi Ancora politica con Il Punto e Grillo Il Punto e Grillo con l'avvocato Grillo torniamo a parlare del Partito Democratico in questo partito c'è o non c'è Grillo? Di necessità bisogna fare virtù nel senso che tutte le volte che si verifica una sconfitta elettorale è una classe dirigente di qualità che sa riflettere sui fattori obiettivi che l'hanno determinata è diciamo un tesoro di esperienza cioè la vita la storia è maestra di vita quindi devo dire però che nel partito si è preso atto delle drammatiche inesperienza o diciamo dei drammatici errori commessi durante questa campagna elettorale si è concordato di addivenire ad una riflessione franca e serena per poter creare un comitato di coordinamento che ha una funzione diciamo transitoria in maniera tale da preparare il partito verso un congresso sia provinciale che cittadino e dare luogo ad una classe dirigente fatta di uomini rinnovati disciplinati ed attenti soprattutto alle esigenze della comunità che si intende governare disciplinare oppure vigilare dal momento in cui si è stati collocati all'opposizione procediamo con ordine perché lei ha messo in campo una serie di questioni prima della prima questione che ci deve chiarire sono state individuate le responsabilità avete fatto un miracolo perché tutti stanno scaricando almeno per chi segue il dibattito come me all'interno del PD c'è uno scaricabrile ognuno dice non sono responsabile io è responsabile l'altro tutti quanti tendono a scaricare responsabilità sull'altro per dire anche a livello regionale non è che a livello regionale c'è il suo segretario Magorno Ernesto Magorno che addirittura nell'ultima riunione della direzione regionale ha detto che è la colpa dei commissari della sanità mi pare un po' che queste responsabilità non se le siano prendendo completamente la verità è che sono concorsi tanti elementi e tanti diciamo soggetti o dirigenti che hanno concorso a questa debacle elettorale per cui non è che ciascuno cerca di scaricare sugli altri ciascuno cerca di ridimensionare le proprie responsabilità non escludendo la concorrenza di altri cerchiamo di essere molto semplici nel caso di specie la prima responsabilità è stata della segreteria sia provinciale che cittadina e con essa di tutti diciamo i dirigenti facenti parte sempre della maggioranza del partito dal momento che non hanno mai affrontato con serietà la situazione drammatica di Grottone intendiamoci bene il partito è il banco di prova è il volano che deve stimolare l'amministrazione e dagli cioè una rotta di correzione quindi sono stati latitanti sia il sindaco la giunta il segretario l'altra grande responsabilità è di essere arrivati alla candidatura del tutto impreparati costringendo peraltro la segreteria regionale secondo me anche qualche pezzo della segreteria nazionale ad imporre una candidata che era del tutto sprovvista rispetto alla sfida lei esclude responsabilità della segreteria regionale che tra l'altro qui ha commisariato non dobbiamo dimenticarci che a un certo punto ha mandato un dirigente regionale a gestire le amministrative di Grottone Giovanni Pucci lei non le attribuisce queste responsabilità lei l'individua solo a livello locale no ho detto anche a livello regionale e qualche pezzo della segreteria nazionale parliamoci bene Nico Stumpo Oliverio cioè l'onorevole compreso poi Mario Oliverio presidente della regione e Magorno è evidente che hanno usurpato ed esautorato l'autonomia decisoria dei livelli locali per imporre un candidato che per dirla in inglese non beveva era stemio insomma era stemio beh allora abbiamo finalmente capito secondo Grillo di chi sono le responsabilità di tutti insomma in parte in parte uguale ma di tutti e allora adesso il partito tenta di riorganizzarsi lei parla di un coordinamento ma nel regolamento di questo PD non si fa riferimento al regolamento a un coordinamento no questa è la proposta che dovrebbe scaturire dalle ulteriori riflessioni nel senso che lunedì quelle di lunedì prossimo esatto onde evitare che possa esserci calato un commissario straordinario dal partito nazionale si tende di abbreviare il percorso attraverso un comitato di coordinamento in maniera tale che dopo due tre quattro mesi al massimo si celebra il congresso provinciale ma sarà possibile questo o il partito nazionale vi dirà nel regolamento queste cose non sono previste l'avete concordato oppure anche voi siete dilettanti allo sbaraglio no non è che sia dilettante allo sbaraglio qui si cerca di abbreviare il percorso perché il regime commissariale non è che sia benefico rispetto ai congressi anche perché molte volte è durato e è andato oltre uno o due anni quindi il problema serio è poi arrivare traghettare il partito al congresso sia provinciale che cittadino in maniera tale poi da avere i dirigenti legittimati sulla scorta di ciò che delibererà l'assemblea provinciale o il cittadino abbiamo capito abbiamo capito vediamo se il partito nazionale vi farà fare questa operazione oppure io penso io penso che in questa vicenda di Crotone anche nelle dimissioni ci sia anche una manina regionale che tenta di come dire di creare movimento all'interno di un partito che soffre di elefantiasi no non è questo il punto diciamo il vizio il vizio diciamo capitale del partito è che in realtà è smembrato in piccole correnti secondo le quali ognuno dovrebbe occupare il partito ad avere uno spezzone dei diversi poteri che potrebbe elargire il partito e allora qui la riflessione seria che si impone a ciascun dirigente del partito è quello di superare questi steccati correntizi perché il partito va al di sopra delle correnti e allora il partito sarà in grado di elaborare analisi di elaborare piattaforme programmatiche di ampio e lungo respiro ma avendo come bussolo di orientamento l'interesse del partito senza cioè tirarlo come la coperta ciascun vantaggio se si ha questa mentalità e allora il partito può benissimo superare la crisi ed essere un soggetto promotore determinativo della politica cittadina ma che partito è quello che non dice una parola di fronte al fatto che c'è un sindaco nuovo che mantiene per sé tutte le deleghe io l'ho definito con una metafora col sugo ristretto con i soldi non fa un assessore ne presenta sette degli otto assessori ma che partito è neanche una parola è stata detta da questo partito allude al sindaco pugnese eh sì a quello non alludo dico qui bisogna che partito è questo qua Grillo no il problema serio è la sconfitta del partito democratico e della coalizione è talmente coccente e devastante che si perde rispetto ad un candidato che è anch'esso sprovvisto di esperienze e di competenze ragion per cui non è che onestamente lo si può ancora giudicare no ma lo stiamo giudicando no 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 voglio dire lasciamolo fare nel momento in cui cercherà di realizzare o realizzare qualche cosa se ne prenderà altro nel momento in cui non dovesse essere allora l'opposizione dovrebbe tirare fuori la sua determinazione nel senso di evidenziare le carenze e di cominciare ad elaborare un suo progetto per le prossime elezioni il problema serio poi è un altro non vorrei che questo sindaco e i consiglieri e anche gli assessori che andrà a nominare cadano nel solito vizio della narrazione cioè a dire ancora prima di fare le cose si prodigano farò 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 io credo che farebbero bene a non fare annunci né preannunci ma di operare positivamente ed i cittadini saranno in grado di verificare l'operato proficuo o meno della nuova amministrazione perfettamente sono d'accordo cioè però la mia domanda era precisa nel senso che io se fossi stato un partito d'opposizione fermo restando che la mia non è una critica al sindaco assolutamente non tocca a me fare queste cose se fossi stato io il partito d'opposizione avrei chiesto nella prima seduta del consiglio comunale al sindaco come mai si è tenuto per sé le deleghe più pesanti e non le ha elargito agli altri assessori avrei chiesto ma scusate ma l'ottavo assessore quando lo nomi se fosse stato io ma la mia non è una critica al sindaco assolutamente è una critica al partito democratico che non svolge il suo ruolo no 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 andiamo è una critica al PD no no ma siamo ormai specializzati in fuga in avanti io devo dire con molta onestà il sindaco è un pivello nuovo ancora evidentemente non ha ben chiara la situazione quindi avrà tenuto alcune deleghe secondo un suo ragionamento cercherà di realizzarle poi nel prosieguo quindi da questo punto di vista ancora prima di iniziare io non me la sento di criticare lo criticano nel momento in cui non realizza tutto ciò che lui ha promesso in campagna elettorale un solo consiglio voglio dare al sindaco deve prendere atto delle aspettative che si possono incutere verso i cittadini il bilancio del comune di Crotone è di 50 milioni e registra debiti per 20 milioni ora è evidente che di fronte a questa carenza di fondi non si può non adottare un linguaggio realistico e sincero non si cioè non si può illudere il cittadino con aspettative inimmaginabili ed irrealizzabili farebbe bene ad essere ad usare un linguaggio piuttosto franco e schietto e di porsi all'opera poi evidentemente adesso alla bicicletta dovrà pedalare insomma commissioni consigliari al comune di Crotone si prospettano alcune importanti novità sentiamo il presidente della commissione regolamento il nuovo presidente Massimo Bianchi ha deciso di convocare la riunione della commissione per affrontare la questione del numero di commissioni numero di commissioni attualmente al comune di Crotone funzionano sette commissioni permanenti sono state aumentate da 4 a 7 nel 2011 con la delibera numero 14 del consiglio comunale e poi sono state convocate continuamente tant'è che poi c'è stata l'indagine da parte della procura della repubblica per i gettoni di presenza sono quelle commissioni che hanno il numero delle commissioni che hanno determinato quell'indagine il numero esagerato di riunioni che venivano convocate e il nuovo presidente della commissione ha deciso di avviare una discussione all'interno della della sua commissione del regolamento per portare da 7 a 4 di nuovo le commissioni se questo percorso si riuscirà a completare alla fine di questo percorso avremo di nuovo quattro commissioni quattro commissioni più quella del regolamento più quella elettorale più la commissione la commissione pari opportunità che però non prevede i gettoni di presenza questo per regolarizzare è il problema un'altra questione che si sta affrontando è quella del trasferimento della sede delle commissioni da via Roma al palazzo sempre Massimo Bianchi Massimiliano Bianchi ha deciso di porre il problema di chi deve verbalizzare le sedute delle commissioni nel regolamento si parla chiaro a verbalizzare deve essere un dipendente comunale nominato dal segretario generale a via Roma erano i commissari che poi sono stati i verbali redatti dai consiglieri comunali che hanno determinato il problema dell'indagine lì erano gli stessi consiglieri comunali perché la precedente amministrazione non aveva messa a disposizione un verbalizzante un dipendente verbalizzante per non pagare straordinario adesso Massimiliano Bianchi visto quello che è successo vuole porre il problema che ci deve essere come previsto dal regolamento ci deve essere un dipendente comunale a verbalizzare e eventualmente le riunioni delle commissioni si fanno in un'area d'ufficio torniamo sulla vicenda della palazzina di edilizia popolare pubblica a fondo Gesù palazzina pericolante sentiamo quali sono le ultime novità c'è fermento a fondo Gesù in fermento sono i 16 abitanti della palazzina considerata pericolante e sono arrivati gli esiti dell'indagine diagnostica fatta sui pilastri beh questo esito dice che quella palazzina non è destinata a cadere però c'è una situazione di pericolo e il dirigente del comune di Crotone che questa mattina con un con un documento ha ordinato lo smantellamento delle transenne che era stato posto nella sua nel suo atto dirigenziale scrive che bisogna però in qualche modo supportare i cornicioni le panchine quelle sì che possono cadere mettendo magari dei pali di sostegno allora i cittadini gli abitanti di quella palazzina non ci stanno non accettano che si smantelli l'impalcatura che era stata costruita per garantire la sicurezza e vogliono impedire fisicamente a chi vuole smantellare quella cosa perché vogliono un intervento risolutivo dei problemi non accettano insomma che il comune se la cavi con una semplice non c'è pericolo non c'è pericolo che crolli e quindi possono continuare a stare mettendo mettendo dei piccoli ponteggi che fermano eventualmente la caduta dei calcinacci e delle panchine e quindi hanno iniziato la loro contestazione impedendo alla ditta di eseguire i lavori questo cittadino abita i 300 alloggi e ha un problema con l'illuminazione pubblica si è rivolta al comune più volte facciamolo dire a lui che è successo è successo che ogni volta che vengono quelli della luce i lavoratori i lavoratori del comune comune vengono ogni volta attaccano il bottone e se ne vanno perché si stacca si stacca l'interruzione 4-5 persone vengono alla volta 4-5 persone staccano questo bottone attaccano il bottone ma lo fanno uno alla volta o lo fanno tutta sera no se ne vanno in ferie dopo e alla sera alla sera quando sono le 11 se ne va la luce se non sono capaci a fare queste cose si stanno a casa e chiamiamo le altre persone i ragazzi i giovani che sono più capaci perciò ieri vantieri io sono andato al comune ho parlato con l'ingegnere lo mandava non l'hanno mandato ieri sera io mi stavo a cacciare non il 18 perché era il buio con la macchina ma loro quando si decidono a venire a giustare questa cosa mi fanno un favore grande poi c'è un altro problema che c'è un altro problema sotto casa mia c'è tutta quell'erba tutta quell'erba fatta che i zanzari qui i topi sono con Maria Vergine ce l'abbiamo detto e loro però io ripeto non è questo sindaco che ha colpo ci mancherebbe altro perché lui adesso è andato non è che può fare miracole però piano piano lui fa qualcosa io vi ringrazio e speriamo che venga destinati due milioni e mezzo alla provincia di Crotone nell'ambito della PON sicurezza ma la firma del protocollo presso la regione i due enti non si presentano il comune alla provincia di Crotone hanno rischiato di perdere due milioni e mezzo fondi del POR Calabria fondi PISR progetti integrali di sviluppo regionale sono soldi del contratto locale di sicurezza erano stati presentati progetti per due milioni e mezzo la provincia di Crotone che era capofila in questo progetto aveva orientato questi fondi alla creatività e all'innovazione che sono il punto di partenza della lotta per garantire appunto la sicurezza all'interno della la sede che aveva scelto era all'interno di Palazzo Caminiti il comune il comune di Crotone era entrato con con un progetto che interessava il centro di vita perché hanno rischiato di perdere perché due giorni fa si è posta la firma per per far partire questi finanziamenti bene alla firma ufficiale erano assenti sia il comune che la provincia di Crotone eppure i due enti erano stati informati da una PEC inviata dalla regione Calabria evidentemente al comune nessuno ha letto questo documento comunque grazie alla buona volontà della regione Calabria si recupera perché oggi il vice sindaco della città Antonella Cosentino e un dirigente dell'ingegnere Giuseppe Cerminara della provincia di Crotone si sono recati a Catanzaro e anche se in ritardo possono apporre la firma per questo finanziamento Stamane presso la questura di Crotone nel corso di una conferenza stampa sono stati illustrati i risultati ottenuti nell'ambito di specifici servizi posti per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale ambulantato sentiamo tenendo conto che da parte della Polizia di Stato e da parte della forza dell'ordine coinvolta in questo settore c'è un'attenzione particolare quindi c'è un'attività costante Erika Lavecchia io ho detto Enrico e faccia ammenda Erika Lavecchia è il portavoce capo di gabinette della questura di Crotone oggi ha tenuto una conferenza stampa per presentare questa iniziativa voluta dal questore di Crotone per combattere l'abusivismo commerciale Esatto è un'attività che noi stiamo svolgendo da un po' di settimane ed è l'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale soprattutto nel settore della vendita ambulante di frutta e verdura ci siamo resi conto che in effetti la città di Crotone è una città in cui questo fenomeno è abbastanza vasto è abbastanza diciamo ingente per cui in collaborazione con le altre forze di polizia perché è un lavoro che noi svolgiamo con la collaborazione della polizia municipale della guardia di finanza dei carabinieri del reparto prevenzione crimine Calabria e anche dell'ASP di Crotone è un intervento interforze per dirle è un intervento interforze con l'obiettivo di far sì che questo importante settore dell'economia quella vendita ambulante si svolga nel rispetto delle norme che lo regolamentano ma anche per far sì che la diciamo la merce che viene poi venduta ai crotonesi sia una merce dal punto di vista igienico sanitario sia conforme alle norme sì perché andate come dire a sequestrare merce che è messa sui marciapiedi come dire soggetta all'inquinamento delle auto che passano questa è l'operazione che state facendo esatto l'operazione è innanzitutto vedere se coloro i quali svolgono questa attività la svolgono munite di licenze delle prescritte licenze laddove ci siano le prescritte licenze noi guardiamo che la frutta e la verdura sia comunque venduta tenuta in luoghi appositi dove a garanzia della salubrità della stessa merce l'operazione finora ha portato al sequestro di molta merce nei giorni delle scorse settimane al crocivia che porta a Tufolo ieri ho visto questa attività interforze qui proprio a via Acquabona all'inizio di Acquabona sì abbiamo sequestrato ieri una tonnellata di merce tra ortaggi e frutta analogo quantitativo è stato sequestrato nelle volte precedenti quasi per ogni attività circa un quintale di merce che poi è stata devoluta ad associazioni che si occupano di volontariato alla mensa dei poveri a quelle che vengono indicate di volta in volta dalla comune dottoressa il problema qual è? che dopo due giorni le abusive ritornano sul posto chiamiamo tra virgolette di lavoro e beh non si può pensare che questo diciamo fenomeno che come dicevo abbastanza dilagante si riesca a combattere in una sola diciamo un solo intervento quello che si deve comunque sottolineare è che c'è molta attenzione da parte della questura di Crotone e da parte delle altre forze di polizia su questo fenomeno quindi noi teniamo diciamo ci teniamo affinché questo settore si svolga nel rispetto delle norme cioè noi vogliamo che gli ambulanti facciano il loro lavoro ma lo facciano seguendo le prescrizioni di legge muniti di licenza pagando le tasse esattamente quello che la legge prescrive il nostro compito è quello di far rispettare la legge Polos 1996-2016 20 anni di osservatorio economico seminario domani 15 luglio alle 10.30 presso la sala Pitagora della Camera di Commercio di Crotone nella mattinata di domani venerdì 15 luglio la nave scuola Palinuro della Marina Militare arriverà nel porto di Crotone ormeggiata presso la banchina di Riva dove resterà in sosta fino al 18 luglio e anche la nave a retrusa unità idografica della Marina Militare italiana sarà ormeggiata nei giorni 15, 16 e 17 luglio presso la stessa banchina nel porto di Crotone durante la sosta in occasione della concomitante presenza nel porto di Crotone della nave Palinuro l'unità sarà aperta alle visite a favore della cittadinanza sia venerdì che sabato che domenica nello specifico domani potrà essere visitata dalle 15 alle 18 sempre domani venerdì 15 luglio alle 21.30 presso il Lido Corsa alla Crotone terzo appuntamento con la rassegna Colors Viaggio nei colori della musica ospite della serata il cantautore Michele Scerra estate con l'ILT per tutti i tesserati e le tesserate di Crotone ogni lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 misurazioni antropometriche gratuiti e utili consigli dalla dietista Deborah Mandica non servono prenotazioni ed ora il tempo previsto per domani su Crotone provincia si prospetta poco nuvoloso visibilità ottima e vento di 19 nodi 26 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 23 la minima il bollettino nautico del Marrione non c'è pervenuto dunque per oggi la nostra informazione è terminata grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti